Buonasera, dopo le dimissioni del sindaco di Valle Crosi, Armando Biasi, di cui ieri abbiamo parlato a lungo e dopo la lunga intervista rilasciata nella trasmissione di Imperia TV, microfono aperto, dove lo stesso Biasi ha voluto spiegare i motivi della sua decisione, la segreteria provinciale del Partito Democratico ha affidato le proprie riflessioni sull'accaduto ad un comunicato stampo inviato alle redazioni. Sul caso delle dimissioni del sindaco di Valle Crosi, Armando Biasi, è intervenuta la segreteria provinciale del PD. Dopo Bordighera, Ventimiglia ed Imperia, adesso è crollata anche Valle Crosi, a si legge in un comunicato inviato alle redazioni, una dietro l'altra stanno deragliando le principali amministrazioni comunali della provincia di Imperia condotte dal PDL. Quale sarà la prossima? Ricordiamo, si legge nella nota stampa del PD l'auspicio dell'onorevole Claudio Scaiola, che voleva esportare il modello del buon governo della nostra provincia al resto del Paese. A conferma del disastro amministrativo ci sono i recenti dati d'Italia Oggi sulla qualità della vita, che ci danno maglia nera delle province italiane. Il caso Valle Crosi è chiuso con le dimissioni del sindaco Biasi, richieste dal PD provinciale, per l'inopportunità politica della continuazione di tale esperienza amministrativa. Biasi come Scullino e Bosio, una figura di spicco della dirigenza provinciale del PDL, uomo di fiducia dell'onorevole Eugenio Minasso. Auspichiamo, dicono dalla segreteria del PD, a questo punto una approfondita verifica da parte delle istituzioni preposte su tutti gli amministrativi svolti dalla giunta Biasi, per evitare eventuali ombre sulla città di Valle Crosia. Ancora guai in vista per Palazzo delle Rivolte San Sebastiano, nella città vecchia di Sanremo. Si tratta di un impedimento burocratico che rischia di mandare in fallimento il progetto di riqualificazione dello stabile che è a rischio crollo. Sentiamo. Nuovi guai in vista per l'antico Palazzo delle Rivolte San Sebastiano, ubicato all'ingresso della Pigna a Sanremo. Non bastava l'allarme per il cedimento della struttura. Ora si ci mette anche una società di carpenteria metallica romana che aveva comperato un alloggio di 80 metri quadri che si trova nello stesso palazzo e che contesta il metodo di espropriazione incominciato dall'amministrazione comunale. Ora i tecnici che seguono le diverse procedure per il piano di riqualificazione dell'edificio dovranno rimediare sulla pratica di esproprio, inconforme alla contrapposizione, per poi essere nuovamente riapprovata e corretta nel piano regolatore. Ciò anche per congiurare un possibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte dei proprietari dell'immobile. Il comune di Sanremo si era infatti posto l'obiettivo di ristrutturare e riqualificare Palazzo delle Rivolte San Sebastiano per cambiarlo in un edificio da consegnare ad alcune associazioni. Ricordiamo che il progetto di recupero del Palazzo delle Rivolte è già stato finanziato con 2 milioni di euro derivanti da fondi regionali. Lo stesso stabile era stato sgomberato tre anni fa per pericolo di crollo ed era stato messo in sicurezza con un intervento di sommorgenza attraverso la sistemazione di una impalcatura in ferro, però garantita per un anno in vista dei nuovi lavori di recupero. Il comune corre a ripari poiché i lavori di recupero rientrano nel progetto Pignamare in scadenza nel 2015. Un ricorso in questo momento andrebbe a compromettere l'intera operazione di restauro. L'alloggio è indispensabile per il comune perché gli consentirebbe l'utilizzo dell'edificio con la relativa trasformazione delle scale d'entrata e per il collegamento di un ascensore. E prosegue incessante l'attività del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo compresa la lotta al commercio abusivo. Di questo e di recenti aumenti dei costi delle multe abbiamo parlato con il comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola. Comandante, sono diversi i sequestri di merce contraffatta effettuati dai suoi uomini in questi giorni di festa, è così? Sì, effettivamente abbiamo visto il periodo vacanziero intensificato la vigilanza su questo specifico settore e abbiamo fatto parecchi sequestri, diciamo da prima di Natale al giorno successivo di Capodanno abbiamo fatto 38 sequestri per circa 750 pezzi di marchio contraffatto. E questi venditori di solito operano nel centro della città? Sì, infatti noi abbiamo intensificato la vigilanza sulle vie principali, quindi via Matteotti, via Palazzo, tutto il cuore della città, anche perché chiaramente il loro obiettivo è quello di avere più gente e quindi proporre la merce dove c'è il passaggio delle persone. Sul fronte delle multe c'è una novità? Sì, beh, come ogni due anni sul fronte delle sanzioni al codice della strada c'è l'incremento operato su base Istat, determinato da un decreto opposta del Ministero, che è aumentato appunto su base Istat che è del 5,4% che è aumentato mediamente di 3 euro ogni singola contravenzione. Cioè passiamo da, andiamo a 41 euro quello che prima era 39 e passiamo da 84 a quello che prima era 80 euro, poi dipende dalle varie sanzioni. Il 2012 come si è chiuso? Un bilancio insomma abbastanza positivo? Sì, stiamo appunto tirando un attimino le somme di quello che è stata la nostra attività e ci rendiamo conto che come al solito l'impegno è stato su più fronti e la quantità sia di servizi che di risultati che di atti è sempre molto cospicua. Prima appunto accendavamo al discorso dei sequestri, da una prima visione, proiezione che abbiamo fatto degli ultimi 4 anni siamo andati costantemente increscendo sia come numero di sequestri e sia come numero di pezzi sequestrati. Chiudiamo, stavo guardando prima, chiudiamo per esempio come pezzi sequestrati per il solo anno 2012 di 12.700 e oltre pezzi sequestrati, quindi una cifra considerevole. E con il 2013 è stato definitivamente aperto il nuovo punto di ristoro lungo la pista ciclopedonale di area 24 in zona Lavesca a Sanremo. Un nuovo tassello importante per l'offerta turistica e recettiva locale sempre più basata sul parco costiero del ponente Ligure, considerato ormai un punto di riferimento. L'area in questione tra Sanremo ed Arma di Tagio rappresenta uno degli angoli più panoramici apprezzati e fotografati di tutto il tracciato. Un'area quindi completamente rinnovata con il giusto ed adeguato Tegor su cui area 24 pone grande attenzione anche sotto l'aspetto della sicurezza. Numerosi sono stati infatti gli interventi effettuati nei mesi scorsi dalle forze dell'ordine che hanno sgombrato alcuni bivacchi di stranieri senza fissa dimora in seguire all'allarme lanciato proprio dalla società che gestisce il parco costiero grazie alle efficienze delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo tutto il percorso. I saldi Ligure sono iniziati oggi e dureranno per 45 giorni anche se nel Basso Piemonte e nella vicina Toscana la concorrenza si è fatta sentire già nelle feste natalizie con le anticipate vendite promozionali nei 40 giorni precedenti l'inizio dei saldi. In Costa Azzurra i saldi inizieranno a partire da mercoledì 9 gennaio fino a martedì 12 febbraio. In questa maniera la Ligure potrà guadagnare qualche giorno in più per lo shopping. Comunque dopo un anno di crisi e difficile per l'economia questa dei saldi si presenta come un momento di risparmio per le famiglie italiane e una opportunità per i commercianti. Le associazioni come sempre raccomandano di prestare attenzione alla merce che si acquisti e alle taglie. I saldi con sconti che varieranno tra il 30 e il 50% continuano a rappresentare una buona occasione di risparmio per le famiglie italiane ed una opportunità per gli imprenditori di recuperare le perdite registrate a causa della crisi economica, del calo dei consumi, dell'aumento delle tasse e i costi di gestione. E torniamo indietro, torniamo al Natale perché tra i regali ricevuti tra le festività natalizie e quelle di fine anno il meno gradito è sicuramente e tra l'altro anche più indesiderato è giustamente il peso, i pesi, i chili che si sono aggiunti naturalmente facendo cenone appunto il capodanno. Sentiamo. Tra i regali ricevuti dalle festività natalizie e di fine anno il meno gradito e più indesiderato è sicuramente l'aumento di peso fino a 2 chili aumento che hanno avuto colori quali non sono riusciti a resistere a un tour de force alimentare durante il quale sono state assunte in media 15.000-20.000 chilo calorie. Secondo la Coldiretti ad aggravare la situazione c'è il fatto che la buffata natalizia è stata anche accompagnata spesso dalla sospensione delle attività sportive e da una maggiore sedentarietà con le lunghe soste a tavola. Con l'inizio del nuovo anno, anche per non dover correre il rischio di cambiare taglia e di rifare il guardaroba, la dieta diventa così un obiettivo ineludibile per molti italiani. Via Libera allora scorpacciate di arance, mele, pere e chiui mentre per quanto riguarda le verdure, quelle particolarmente indicate per perdere peso e disintossicarsi sono spinaci, cicoria, radicchio, zucche e zucchine, insalata, finocchi e carote. Veniamo alla cronaca, saranno celebrati il 7 gennaio nel primo pomeriggio ai funerali di Santino Putrino. La cerimonia funebre si terrà presso la chiesa di San Nicola, Borghetto San Nicolò. L'uomo del giorno di Santo Stefano uccise la moglie Olga Ricchio, 51 anni, la cognata Franca di 54 anni. Putrino tentò di togliersi la vita ma venne ricoverato al San Martino di Genova dove è morto giovedì pomeriggio dopo un'adegenza in coma farmacologico. Un pregiudicato imperiese di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di resistenza, oltraggio, minacce a pubblico ufficiale. La scorsa notte in via Matteotti all'Imperia, sotto l'effetto dell'alcol, l'uomo ha dato in escandescenza ad un controllo dei carabinieri giunti sul posto dopo una telefonata giunta al 112 da un passante che aveva segnalato un uomo che si aggirava in strada armato di coltello. L'uomo alla richiesta dei documenti e di essere perquisito ha prima iniziato ad inveire contro i militari dando qualche spintone e quindi ha iniziato a denudarsi davanti alla sua famiglia, la moglie e due figli minori. Al momento si trova agli arresti domiciliari. Un'autovettura appartenente ad una volontaria è stata danneggiata da ignoti che hanno infranto in un auto posteriore mentre si trova parcheggiata in via Straldi a Sanremo. Sono stati così asportati due giacche da uomo altrettante da donna, maglioni e pantaloni che la donna avrebbe dovuto dare a persone indigenti. Si tratta del secondo episodio riferito alla donna in un anno e l'ultima volta sempre in via Straldi avevano danneggiato un'altra auto. A Ventimiglia nella notte i soliti vandali hanno colpito ancora e i malviventi hanno agito nella zona che dal lungomare Oberdan porta la passarella su Roia fino ad arrivare alla città alta e quindi sino alla strada che porta alla casa di riposo. Ora il comune dovrà fare una stima dei danni tra lampioni e luci rotte ma anche quadri elettrici assenti. Sul caso indagano i carabinieri della città dei Fiori. Noi ci vediamo in qualche istante, tra poco. Presso l'antica azienda Raineri di Chiusanico, il Porto Mavarizio Yacht Club ha presentato ieri la squadra agonistica Laser con il suo programma per il prossimo quadri elettro olimpico. Oltre ai componenti della squadra agonistica Laser, parteciperanno all'evento alcuni atleti che hanno tenuto alto il nome del sudalizio in molte manifestazioni veliche, sentiamo. In un scenario particolare le vele negli ulivi. Siamo qui all'azienda antica Raineri e siamo con Pierluigi. Allora io non ho nessun merito del discorso, soltanto dato ospitalità a questo ente che è lo Yacht Club di Porto Mavarizio perché l'iniziativa è quella a favore dei giovani, quella di portare possibilmente all'Olimpiade qualche atleta imperiese seguito appunto dal Porto Mavarizio Yacht Club. Noi abbiamo solo messo a disposizione il sito e siamo felicissimi di vedere questa ambientazione perché tutto a merito dello Yacht Club non è certo merito nostro. Non siamo solo ospiti e basta. La cosa naturalmente ci onora, ci fa piacere il fatto che ci abbiano chiesto questa disponibilità. Noi siamo ben lieti di poter aiutare lo sport, uno sport come la vela e lo sport dei giovani in particolare. Dunque siamo con il presidente del Porto Mavarizio Yacht Club, Fulvio Parodi. Come si diceva, le vele negli ulivi, uno scenario particolare per la presentazione di una squadra velistica. Esatto, siccome noi teniamo molto al territorio e soprattutto all'aggancio tra il mare e l'entroterra abbiamo deciso di venire in questo meraviglioso posto, in questo meraviglioso frontoio a presentare la nostra squadra. Squadra che ha un programma di quattro anni e in questi quattro anni quattro ragazzi saranno portati man mano a scalare i vertici delle classifiche e speriamo non solo italiane ma internazionali. Perché il progetto è molto ambizioso, prevede questi quattro ragazzi che saranno seguiti da Marco Superina che per gli addetti ai lavori è una persona molto importante perché ha seguito Diego Negri quando si preparava per le Olimpiadi. e quest'anno era in Inghilterra come coach della squadra di Monaco. Diciamo che sia una classe particolare questa, diciamo che è la prima classe praticamente, la classe laser, no? Sì, è la classe laser che conta un numero enorme di adepti e parte dai ragazzi più giovani perché la prerogativa di questa barca è avere tre vele differenti come superficie velica. Quindi parte dai ragazzini di quattordici anni e va sino ai campioni olimpici. Quindi passando tra le ragazze, quindi è una barca molto duttile, si può tranquillamente portare sul tetto di una macchina e è una barca molto interessante. Questa è la nostra scommessa per il prossimo quadriennio. Nell'occasione l'associazione viticoltori Vite in Riviera ha offerto l'aperitivo di Buonanno a tutti i presenti. Tra questi c'è anche un olimpionico, Giorgio Poggi. Sentiamo. Nell'ambito della manifestazione Le Vele negli Olive abbiamo anche l'associazione Vite in Riviera, l'associazione dei produttori vini. Ne parliamo con Marco Temese, un po' il portavoce di questa iniziativa. Sì, siamo un'associazione tra produttori che abbiamo costituito un paio di anni fa per promuovere sul territorio i nostri vini, sia della Riviera Ligure di Ponente che del Dolce Acqua che dell'Ormeasco di Pornassio. Com'è nata questa associazione? Abbiamo deciso insieme di mettere un po' la nostra esperienza e le nostre forze per coinvolgere un po' di più sia noi che il territorio e questo è lo scopo dell'associazione. Ed abbiamo anche una rappresentante femminile. Ti piace il vino? Sì, 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 mi piace, mi piace. Poi lavorando in azienda ti coinvolge, quindi già da piccoli si è coinvolte e di conseguenza si cresce in questo mondo e ti piace sicuramente. Bene, a presenziare questa riunione velistica, un grande personaggio della vela, senz'altro Giorgio Poggi, che fra l'altro è un olimpionico 2008, campione italiano in carica della classe FIM, è già stato anche campione italiano anche del laser, mi sembra di aver capito. E' un nostro, possiamo dire, un nostro concittadino, un ligure, perché è qui vicino ad Albenga, no? Mi sembra. Sì, sono di Albenga, adesso sono passato diciamo al FIM, una classe che si addice un po' di più al mio fisico. Ho iniziato con il laser, con questa barchetta qua dietro, ho iniziato a togliermi diciamo le prime soddisfazioni, adesso al FIM, fino a raggiungere l'obiettivo delle Olimpiadi di Pechino, che è stato naturalmente il sogno di ogni velista fin da quando inizia ad andare in barca, quello di poter partecipare alle Olimpiadi. Poi ho preparato anche le Olimpiadi di Londra per una serie di errori, un po' di sfortuna, non è andata benissimo la selezione, però sono di nuovo in campo per Rio 2016, che mi devo prendere una bella rivincita. Tu sei, fra l'altro, diciamo che ricordiamo che hai delle fiamme gialle, come puoi conciliare il tuo lavoro con lo sport? Ma è proprio grazie alle fiamme gialle che riesco ad andare in barca, perché come tutti i gruppi sportivi, tutti i gruppi militari hanno un loro gruppo sportivo, e sono entrato in quello delle fiamme gialle, ed è al giorno d'oggi probabilmente l'unica possibilità per riuscire a fare della propria passione, e poi un lavoro, perché comunque la vela inizia come passione, un hobby, e trasformarlo in lavoro solo grazie ai gruppi sportivi si riesce a tramutarlo in un lavoro. Va bene. Cosa dirti? L'in bocca al lupo per il futuro? Cosa c'è di futuro? Cosa c'è di... Stai preparando adesso? Adesso la prima regata è la settimana internazionale di Cannes, a metà febbraio, per poi passare alle regate di Coppa del Mondo, che sono Palma-Ier, a aprile, e poi ho due mesi di allenamento duro per preparare l'Europeo e il Mondiale, a luglio-agosto, uno in Germania e uno in Estonia. Va bene, chissà che non ci incontreremo per parlare di qualche bella vittoria. Speriamo, a presto, ciao ciao! E ricordiamo l'appuntamento di domani con il cimento invernale alla Spiaggia d'Oro di Impelia, quarta edizione, in programma oltre al tradizionale tuffo in mare, alcuni eventi collaterali. Sentiamo Luca Ramone. E allora con il bel sole, il clima mite, il nostro mare, andiamo incontro al cimento che non può mancare quest'anno? Sì, anche quest'anno, domenica, la Befana, il tema del cimento è la Befana. Già l'anno scorso abbiamo fatto così, quest'anno rifacciamo lo stesso tema. Appuntamento a che ora? Dunque, le iscrizioni cominciano dalle 10 in avanti, quindi le persone che verranno potranno iscriversi, quelli che verranno a fare il tuffo, se no gli altri che vengono a guardare, no? dalle 10 in avanti. Il tuffo è previsto intorno alle 11.30 a mezzogiorno. Ci sono anche diversi eventi organizzati a contorno? Beh, sì, come interpretiamo noi questa manifestazione, proprio un taglio un pochino più goliardico, quindi non è solo una prova di ardimento, un tuffo in mare, che in Liguria è molto diffuso, non lo facciamo solo noi ovviamente, lo fanno tantissime altre città, anzi noi siamo arrivati buoni ultimi, perché questo qui è il quarto anno soltanto, considerando che Alassio sono 50 anni che lo fa. Beh, noi facciamo qualcosa di più, perché ci sarà la ginnastica di scaldamento, con una ragazza che si chiama Erika, molto brava, ci sarà l'animazione con la musica di Gianni Rossi, e poi ci sarà la cioccolata calda, un premio a quelli che faranno un gadget, a quelli che faranno il tuffo. Ecco, parliamo di numeri, quanti vi aspettate? Beh, la situazione è questa qua, dunque, noi l'anno scorso abbiamo fatto 222 partecipanti, e al terzo anno decisamente un numero molto alto, e siamo stati quelli che in tutta l'arco da Sanremo, di Anomarina, Alassio, quelli con cui ci confrontiamo noi, siamo quelli che abbiamo avuto il numero più alto, anche perché forse abbiamo trovato una giornata di sole molto, molto bella. Quest'anno sarà molto difficile essere i più bravi, perché Alassio, che lo fa da 50 anni il 26, il 26 dicembre, ha fatto 260 partecipanti, quindi il nostro obiettivo è farne 270-280. Invitiamo magari anche i ragazzi della Pallanuoto? I ragazzi e le ragazze della Pallanuoto, in divisa con la calottina, dovranno per forza essere presenti, perché se no il Presidente li riprenderà tutti. Diciamo la verità, siamo a inizio gennaio, ma non fa freddo qui da noi. No, e le previsioni sono per una giornata come questa. E allora ci vediamo domenica. Sì, vi aspetto tutti quanti alla spaggiatura domenica. Domani a 20 miglia, in Piazza della Libertà, a partire dalle 10, si trarà l'appuntamento con la Befana del Soccorso. L'iniziativa è stata organizzata dalla Croce Verde in Temelia, Croce Rossa, e Vigili del Fuoco della città di Confine. Verranno eseguite delle dimostrazioni su come comportarsi in caso di trauma, ostruzione pediatrica, e rianimazione cardiopolmonare pediatrica con il supporto delle attrezzature sanitarie in dotazione. Inoltre, ai più piccoli, sarà offerta la possibilità di conoscere i mezzi di soccorso, salire a bordo, ed essere un baby soccorritore per un giorno. In Piazza della Libertà saranno presenti tutti i mezzi dei soccorritori che hanno organizzato l'evento. Il personale non mancherà di spiegare l'operato che quotidianamente viene svolto in strada, e non solo. Infine, l'evento clou sarà alle 15, quando entrerà in scena la Befana e per ferire l'estrazione della pesca di beneficenza. Ora ci occupiamo dell'autostrada dei Fiori con i lavori in corso a partire dal lunedì della prossima settimana e del quadrometeo. Dopo la sospensione, in occasione delle festività natalizie di fine anno, riprendono alcuni lavori sul tratto della 10 Savona a confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 7 a domenica 13 gennaio. In direzione Francia, careggiata nord, traspotorne e feglino, riduzione di careggiata per allargamento di una piazzuola di sosta da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperio Ovest e d'Armaditaggio riduzione di careggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto Prino da lunedì a domenica anche notturno. In direzione Genova, careggiata sud, tra Armaditaggio ed Imperio Ovest, riduzione della careggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto Prino da lunedì a domenica anche notturno. Tra Imperio Est e San Bartolomeo al Mare riduzione di careggiata per il completamento dei lavori di una gabina elettrica da lunedì a domenica anche notturno. Tra Finale e feglino riduzione di careggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza da lunedì a domenica anche notturno. Con il quadro meteo alla situazione di oggi la temperatura minima ha registrato a 8 gradi, 13 la massima, 15 del mare. Umidità 87%, vento da nord-ovest a nord-est ad una velocità media fra 4 e 8 km orari. Cielo poco nuvoloso, mare quasi calmo, pressione 1022 ectopascali in diminuzione. Vediamo le previsioni per domani e per i prossimi giorni. Domani il tempo sarà buono, salve qualche transito di nubi non significative. I venti deboli orientali, il mare poco mosso, le temperature stazionarie. Nessuna variazione a breve termine, tempo stabile e complessivamente soleggiato, anche della scarsa circolazione delle masse d'aria e l'elevata umidità potranno portare foschie e la formazione di nubi marittimo costiere di prima mattina e verso sera. Domani è domenica 6 gennaio, festa dell'Epifania. Il sole sorge alle 8.02, tramonta alle 17.05, la luna è in fase calante, leva a l'1.51, cala alle 12.26. È tutto, grazie per l'attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata e buona domenica. Grazie.